Amici amici di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato alla Romania, in particolare al primo episodio dedicato alla Grande Repubblica di Romania dopo la mossa che abbiamo fatto nello scorso episodio, in cui abbiamo trasformato il nostro Grande Regno in una Repubblica con tanto di elezioni che iniziano adesso. E abbiamo sbloccato l'achievement populisti al governo, questa la voglio vedere perché non la conoscevo nemmeno, fa uno switch di governo attraverso una riforma. Interessante. Possiamo ottenere Nicolai I? Questo ovviamente però diventa un problema perché ci abbassa di 18 la Republican Tradition, che è tantissimo, anche se Nicolai guadagnerebbe un punto, un punto, un punto. Essendo abbastanza anzianotto il Nicolai, io direi lo lasciamo perdere per il momento, però le idee che dovremmo sviluppare in assoluto sono quelle amministrative, quindi sblocchiamo un burocrate che sarà Flavio, Ucaldimachi, il nostro primo primo ministro, e è un bubbling buffone, non lo rieleggiamo. L'elezione avrà fra sette anni, ok? Quindi, attenzione, fra sette anni possiamo cambiarlo oppure potenziarlo. Ha 31 anni, però è giovane. Questo è positivo. Togliamo la pausa. Adesso, per sette anni, abbiamo un vantaggio. Scusate, abbiamo uno svantaggio perché la nostra famiglia ragnante era migliore. Appena eletti, i primi ministri sono dei 6, poi diventano dei 9, poi diventano dei 12, e poi rimangono dei 12 per tutte le rielezioni, che è bestiale. Sempre, però, considerando che la propria contradiction deve salire. Non dimentichiamocelo. Se avessimo le idee burocratiche, anziché aristocratiche, ci sarebbe anche la possibilità, vabbè, di avere più punti, ma è una storia lunga. Allora, qui facciamo il nostro esercito, che è un 12, cavalli 4, 4 ho detto, non 6, perché ho applicato 6, e 32, facciamo un bel 10. Ok? Questo esercito va a Bucarest, gli altri fanno split, Pest e Costantinopoli. E adesso abbiamo ribelli che escono da ogni dove, molto presto. Ragusa, Austria, eccetera. Dovremmo cercare di menarli e poi abbassiamo i costi e cerchiamo di costruire nuove manifatture. E poi tutto questo denaro lo traduciamo perché abbiamo bisogno di advisor migliori. Velocità? Io direi 4. Perfetto. Ok, Ragusa. È la prima che si ribella, andiamo a gestirla. Don G. Krali è stata convertita. Convertire di N adesso ci costa 100. Vai a capire perché. Io converto sempre quelli che costano meno. Non l'ho ancora capita sta cosa e non potete darmi consigli nella sezione commenti perché ho registrato questa partita molto, molto tempo fa. Voi la vedete oggi o l'ho registrato il mese scorso, per esempio. Quindi voi oggi che commentate, io ho già finito la partita. Quindi le domande che mi faccio me le faccio un po' per me, ma ben consapevole del fatto che sto commettendo anche degli errori. Va bene. Qui potrei fare un contribution che non sarebbe male, ma i burger poi mi odiano. Vediamo. Perché c'è sempre una light ship da qualche parte che viene catturata? Ok, intanto potenziamo le nostre navi. E ossia C, AVN si ribelleranno. Facciamo una cosa. Dimmi con un altro leader, dai. E posso dare al mio ruler il mio leader del command perché è gratis e se muore lo rileggiamo. È un 2 stelle, benissimo. Se muore lo rileggiamo e non perdiamo Republican Tradition. Leggiamo sempre un 6 che magari non è bubbling buffone. E non è male, no? Adesso prendiamo l'advisor che sconti l'esercito. E questo più 2 va bene perché costa poco. Va bene. Così mi piace. Miglioriamo le relazioni con la Bohemia. Perché ho visto che è un po' salito il loro Liberty Desire. E con la Baviera. Però la Baviera, ragazzi, io quasi quasi... La Baviera perché l'avevo schiacciata? Perché volevo diventare imperatore? Non è una banca importante. Perché ho un meno mille? Non possiamo essere eletti. Sapete cosa faccio? Rompo la... Rompo la... Il vassallaggio con la Baviera. Libero la Baviera. È una relazione in più che non mi serve. È meglio avere un buon alleato. The Stablishing of Bank. Allora, abbiamo stabilito una banca nazionale. Possiamo focalizzarci sull'inflazione. Ne perdiamo 5 punti. Guardiamo 1 stabilità e 1.100 Ducati. E poi per 50 anni riduzione dell'inflazione. Oppure su avere dei prestiti di cui beneficiare. Perdiamo l'inflazione. Stabilità Ducati. Meno 0,50 interessi. Ah, ok. È un peccato perché l'inflazione nel momento è bassina. Però... Ok. Creta vai, Boyers. Quanto stanno? A 50, va bene. Ok. Creta e i Boyers va benissimo. Ora, questi soldi, prima di dimenticarci, voglio vedere soltanto una cosa. I Pest puoi andare. E anche Atene. Per il Trade Depot. Università ne abbiamo 5 finalmente. Ok. Quindi finalmente i punti di spendere ci sono, quelli di università. Basiliche, Somogi. Ci dà un bel 29. Va fatta. Il resto sono le fatture. Podolia, che ha le mucche, Mumu. Abbiamo in costruzione qualcosa tipo 9 manifatture al momento. Con tutto quello che ne consegue. Allora, avendo le idee di spionaggio e la possibilità, magari, di avere dei vicini di casa ben sviluppati, tipo il Papa mi sembra ben sviluppato, iniziamo lo spy network. Perché avere un altro spy network nei loro confronti mi permetterà di, tra virgolette, rubacchiargli le tecnologie. Vediamo se funziona. Con gli otto mani abbiamo questo spy network, possiamo fare, rubare, claim, ribelli, mappe, contro spionaggio, trade conflicts, scontento, reputazione, amministrazione. Agitate for liberty. Sabottare il reputamento, corrompere gli ufficiali, eccetera. Ma, insomma... Niente di eccezionale, ma va bene così. Niente, dicevamo, quindi la Baviera la cancello. Non ha assolutamente senso avere questo vassal. C'è stato un momento in cui sarei potuto diventare imperatore del Sacro Romano Impero. Ah, sono una repubblica. Ecco perché adesso tutti meno mille. Perdiamo prestigio? No, semplicemente cosa facciamo? Li annettiamo. E poi diamo monaco alla Bohemia. Facciamo così. Possiamo dire addio ai sogni di Personal Union con altre nazioni che non siano la Bohemia perché adesso la Bohemia è nostra sorella ma il Doge, il primo ministro di Romania diventa primo ministro anche di Bohemia. Ormai sono nazioni fratelli e sorelle li dovrei annettere. Integrazione quanto mi va a costare. Ah, di Pro-Reputation abbiamo meno 3. Abbiamo un bel meno 3 dovuto al Bubbling Buffon, meno 1 e probabilmente il fatto che abbiamo integrato anche la Bosnia recentemente quindi non possiamo integrare un bel piffero di nulla. Ok. Continuiamo quindi le conversioni. Zagabria adesso. Interessante. Nuova idea. Economica, sì. Ponti 8.0.5 Adesso dobbiamo davvero dedicarci un po' alle idee. Cerchiamo di chiudere. Non ho ancora una polizia attiva. Ci siamo stati molto arretrati fino adesso per raggiungere questa espansione e questo è il motivo per cui adesso vorrei evitare che la stessa cosa si ripeta. Domanda. Quando è che questi diventano greci? Nel 76. Wow. Impiegheremo tantissimi anni a trasformare Costantinopoli in una città greca ma ce lo faremo. Potevo farlo a Romena a questo punto ma costava molto di più. Cos'è sta roba? Build Manufacturies? Avere almeno 20 manufatture ci dà più production efficiency e 2.000 denarini. Abbiamo più di 20 manufatture? Ragazzi abbiamo chiuso la linea delle missioni dell'Imperial Conquest e questo ci dà la possibilità di diventare impero. Ragazzi siamo un impero una grande repubblica imperiale. Yeah! Great Prince Dome. Questo è fantastico perché ci dà la possibilità di avere più culture quindi la greca, la romena, la rutenia, l'ungherese, slovacca e transilvana ormai ce l'abbiamo possiamo prendere altre due saranno la serba e la vulgara. La turca no perché la stiamo convertendo. Croata albanese, austriaca, polacca e veneziana le dovremmo convertire. Che figata pazzesca! Il fatto adesso di avere più culture sotto di noi aumenta le tasse della produzione se non sbaglio. Fatemi vedere Venezia ad esempio che non ha la mia cultura che cosa perde. lo canal rest più alto meno tasse la forza emissionale più bassa meno manpower e meno marinai. Invece adesso facendo così va tutto alla grande. E un'altra cosa che possiamo fare buttiamo in piedi altre manifatture chiaramente ogni città avrà la sua manifattura. Vi immaginate se a fine partita ogni città romena ha la sua manifattura e tutte le costruzioni cioè diventa una cosa una figata pazzesca. Una cosa che mi dispiace un po' è vedere però la Republican Tradition che è a 58. Allora Venezia ci ha dichiarato guerra i mamelucchi e la e la Russia ci hanno ovviamente bidonati e adesso siamo in una grande calizione c'è dentro anche la Francia purtroppo. come fanno ad avere 228 perché la Francia non è rossa? C'è dentro la Francia? Ah ecco cazzo se è una guardia di calizione pesante oh no oh no donnazione amici questo è un problema questo è un problema grande 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 oh mamma mia allora porco cane sono doppio rispetto a noi ok oh cazzo questo è un problema grandissimo questo mi frega la partita signori oh merda va bene eh calma il sangue freddo e chiaramente la dobbiamo giocare tutta sulla difensiva wow e venezia ha come obiettivo show superiority ok quindi dobbiamo vincere le battaglie che evidentemente stanno iniziando a ad avvenire sul territorio della boemia qui rischio di perdere la boemia come personal union o grossi territori qui questa è una guerra che potremmo perdere pesantemente merda qui paghiamo tutte le nostre espansioni fregandocene del delle coalizioni qualcuno pensa tanto io non dichiaro guerra poi non succede niente per quella russia e i mamelucchi e questa volta mi hanno traditi entrambi entrambi cioè è pazzesco occhio perché qua c'è una battaglia a campare di quelle con i controcoglioni piazziamo sin da subito il nostro generale migliore occhio ah ho dimenticato una cosa importantissima più disciplina eh no meno costo no più disciplina sì ok attenzione mega battaglia campale 130 contro 90 e arriva la francia che ci incula con praticamente grande finezza come come di consueto minchia ragazzi non so come finisce questa guerra ma se questa partita è stata letteralmente perfetta fino ad ora questo è uno degli errori tragici che potrebbe compromettere totalmente totalmente non sto scherzando è una situazione molto difficile molto brutta molto difficile e molto brutta non ho parole e il bello dell'ironman è che qua se finisce male oddio non è che perdiamo la partita però ci diventa un casino fidatevi sta per diventare un casino questa cosa wow sta per diventare un casino gigante dobbiamo riprendere i nostri uomini perché perdiamo così tanto denaro chiediamo un contributo chiediamo magari anche i cosacchi di darci la mano no non si può però 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 mi ero dimenticato San Michele sapete che se l'avevo attivata magari riuscivo a vincere la prima parte dell'attacco e le cose andavano diversamente e per adesso c'è un tappeto di truppe che mi si stanno vomitando addosso che mi stanno distruggendo tutto praticamente è tutto il mondo occidentale contro la grande repubblica di Romania infami adesso vi dico una cosina questa guerra terminerà e poi metto come nemici anche i russi e farò una campagna di Russia per distruggerli voglio che le russi tornino ad essere mille perché in tutta la partita non mi hanno aiutato una sola volta all'inizio all'inizio ma mi hanno tradito così tante volte che ad un certo punto poi mi è passata la voglia di contarle che brutto che brutto ragazzi che la Spagna perché la Spagna fa parte della Francia cioè qui si vanno ad incastrare talmente tante potenze eh perfetto qui c'è un'altra battaglia campale che dobbiamo difendere ora la nostra disciplina è più alta della loro pesantemente però come sempre arrivano a supporto i francesi e è un casino rischiamo di perdere ancora una volta che palle sono tantissimi sono il triplo di noi mamma mia combatteremo fino alla morte combatteremo con gli unghie con i denti ma questa guarda la perdiamo questa guarda la perdiamo terribilmente è un peccato gigantesco ma che cosa ci possiamo fare ragazzi sto pensando sto pensando anche con la flotta siamo messi malissimo la nostra flotta la dobbiamo ma i mamelucchi non sono uguali contro di noi ancora contro gli ottomani ah già che casino pazzesco unghie vogliono di tutto secondo me se adesso offrissi la pace vabbè è troppo presto ma chiedono esatto chiedono di rilasciare mamma mia vogliono che rilasciamo Bosnia e Ragusa eccedere Venezia Venezia pazzesco sapete cosa vorrei eccedere io Vienna costa molto Venezia Monaco no cancella la Baviera e qui siamo già a 40 e poi denaro war reparation una cosa di questo tipo potrebbe essere la pace se facciamo lo 0% però ovviamente adesso è tutto ancora da definirsi io continuerò a combattere non siamo allo 0% però c'è il rischio che io debba ritornare Vienna c'è il rischio che io debba ritornare Vienna che ripeto me ne frega fin lì però mi dà un po' fastidio amici e amiche grazie per essere rimasti con me e alla prossima